De Luca ha detto delle cose sacrosante che ho toccato con mano. È vero, perché è un disincentivo a cercare il lavoro. Salva tante famiglie il reddito. Però certo non ti spinge, più si prolunga come adesso succede a dicembre e più non si avvoglia innanzitutto perché non si è, come dice lui, non si è supportati. Quindi si tratta soltanto di uffici che dicono guarda in bacheca o telefona a questo numero. Allora, il giovane, che poi stiamo parlando della campana e si sposa presto, ha i bambini, quei 700-800 euro al mese sono uno stipendio. Voglio far vedere però...